bentornati cari amici oggi parleremo di un'altra mia pubblicazione su landscape photography magazine inerente l'oasi zegna e bielmonte innanzitutto vi auguro una buona domenica e spero stiate tutti bene questa pubblicazione riguarda un assignment call of the days sempre indetto nel mese di settembre da questa rivista americana con cui ultimamente collaboro ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta questa è un'immagine lungo la panoramica zegna alle porte di bielmonte per coloro che non conoscono la zona introduco brevemente precisando che l'oasi zegna prende il nome dal fondatore ermene gildo zegna che ha voluto promuovere questo territorio dove è nato creando un parco naturale liberamente accessibile permettendo un contatto diretto con la natura e numerosi progetti ambientali questa zona come vedete qui descritta comprende l'alpe margosio da dove si può ammirare lo splendore del monte rosa e la cima del cervino degustando prodotti tipici locali purtroppo però le condizioni meteo inizialmente davano le previsioni davano una bellissima giornata che però purtroppo si è offuscata subito e quindi non abbiamo potuto godere di questa vista ma tornerò nel più breve tempo possibile spero proprio di riuscire a fotografare in giornate meravigliose sicuramente capiteranno ecco da questa affascinante angolazione si vede tutto il panorama sopra biella certo ci è dispiaciuto molto aver trascorso un pomeriggio così uggioso ma resta comunque il fascino del mistero in una panoramica tutta da riscoprire ecco non c'è soltanto una parte scientifica naturalistica da andare a riscoprire ma anche comunque una parte culturale che merita sicuramente una breve visita vi faccio subito vedere questi affreschi molto belli eccoli qua allora qui ho messo tutto il percorso della panoramica segna in generale c'è anche i rododendri quella riva biemonte ecco qui questi punti di interesse artistico la chiesetta alpina e la chiesa di croce mosso appartenente al vicariato della località mosso santa maria intitolata come qui vedete scritto a sant'antonio abate a san bernardo di mentone la chiesa è stata edificata nel 1514 e presenta una notevole torre campanaria e diversi affreschi esterni nella parte anteriore eccoli qua quello fotografati con una nikon di 5000 per cogliere al meglio i dettagli questo questo racconto è anche stato pubblicato su musei the app quindi adesso l'applicazione scaricabile da ios e da android è in fase di aggiornamento a breve ritorneranno tutti i racconti disponibili e scaricabili da telefono da tablet quindi come vedete anche in una giornata di scarsa luce si riesce a cogliere la bellezza della natura e dell'arte e scoprendovi piccoli luoghi successivi ma ricchi di spiritualità l'autunno nelle porte siamo stati fermi due anni speriamo adesso anche clima permettendo di poter fotografare paesaggi autunnali anche perché i contest dell'autunno adesso ormai sono imminenti come prossimi appuntamenti e doveva andare sabato 2 a il sogno per la desarpa l'appuntamento che per fortuna si è riusciti a confermare poi ci saranno le giornate d'autunno a gressonei con castel savoglia e a plas mulen in valpellin questa diga bellissima che conduce c'è un sentiero che conduce a refugio preyer ed è voglio proprio fotografarla per cogliere in pieno il paesaggio autunnale poi anche cervigna non può mancare con la maestosità del cervino davanti colori alle tonalità giallo arancioni che dire speriamo si possa fare tutto questo nel frattempo vi auguro ancora una buona domenica vi ringrazio della vostra attenzione vi mando un grande abbraccio ciao